Niente guardie, niente barricate, ti aspetteresti che il loro quartier generale fosse protetto meglio. Mi sembra chiaro che il loro intento non è quello di tenerci fuori. E così questa è la tana della bestia. Ventress, è io che immaginavo questa missione spiacevole. Il piacere è reciproco, mio caro Obi-Wan. Mi sei mancato. Il mio fedele informatore mi ha avvertito che stavate venendo. Beh, allora ti ringraziamo per la tua ospitalità. Arrenditi, Ventress. Sono tutta tua, Obi-Wan. Siete serviti allo scopo, amici. Dobbiamo tornare indietro, adesso. È troppo tardi ormai. È così difficile sapere di chi fidarsi di questi tempi. Qual è il piano, maestro? Portarci qui è stato un errore, mia adorata. Credo che tu abbia sopravvalutato le tue capacità. Davvero? Venite a prendermi, ragazzi. Non ci avevi detto che portavi degli amici? Oh, povero Obi-Wan. Sei stato tradito. E noi stiamo per prendere il controllo di questo muro. Prepararsi a marciare sulla città. E noi stiamo per prendere il controllo di questo muro.